Benvenuti, finalmente ricomincia il campionato, l'attesa è finita E si comincia Pirlo Barzagli Vidal Dicksteiner Domizi Theroux Thomas Hertoux Danilo Larangeira Occhio all'opportunità Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata Pirlo Guaduasamoa Tevez Prova a saltare il centro campo Tevez E qui ha sbagliato, era meglio passare la palla a uno dei compagni liberi Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti L'atteggiamento è quello giusto, ora però devono sistemare la mira Asamoah Palla in out, ci sarà rimessa laterale Pogba Forum a tirare Dove Che pallone che termina l'argo non di molto Questo è un gran bel tiro, credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato Bruno Fernandes Dick Steiner Arriva nella tre quarti avversaria Palla in out Ci sarà rimessa laterale Didal Niente gol né da una parte né dall'altra E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone Il primo gol si fa attendere ma non ci stiamo annoiando Tevez Può tentare la conclusione E hanno sfiorato il gol Non è stata una brutta conclusione Ma da quella distanza Le probabilità di segnare sono meno di zero Ci è mancato poco per trovare ancora il gol È decisamente un gran talento Riesce a determinare da solo L'esito di una partita Palla in out Ci sarà rimessa laterale Pericolo Il portiere la stava combinando grossa Luis Muriel Luis Muriel Guadu Asamoa Cerca spazio Badu Tiro Tiro Chance per tirare Fuori di poco sfortunati qui Ci è andato molto molto vicino Un tiro ottimo E poteva segnare anche stavolta Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi Un talento puro Ci mette il fisico E conquista il pallone Primo tempo che finisce qui La difesa fino a qui è stata perfetta Non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare Stanno facendo davvero molto bene Nessuno ha trovato il gol Si chiude 0-0 al primo tempo Partiti È iniziato il secondo tempo Cerca il passaggio in profondità Tocca verso il centro Cross respinto Bruno Fernandes Pinzi Badu Allarga il gioco a destra Pallone intercettato Intervento davvero provvidenziale Può colpire Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile Se vi siete sintonizzati solo ora Vi dico una cosa sincera Non vi siete persi nulla Siamo ancora sullo 0-0 Siamo ancora a reti inviolate Il tempo passa Prova a passare la difesa Scavalcandola col pallone profondo Sul filo del fuorigioco Giorente Domizzi Ed ecco un'altra rimessa laterale Tirò La gioco è lunga Di Natale Tiro Bell'anticipo Pericolo sventato Attenzione a Bordocampo Mi sembra ci sia una sostituzione Era chiaramente in debito d'ossigeno Non poteva più continuare così Pogba Muriel Tiro Tevez Vuole la profondità Bolla dentro C'è il gol Azione attentamente pianificata Ed eseguita alla velocità della luce Non bisogna mai lasciare spazio A questa squadra Per partire in contropiede Hanno dimostrato più e più volte Di essere micidiali in velocità Si riparte dall'1 a 0 Il vero avversario ora è la stanchezza Non devono commettere passi falsi Intanto il tempo passa La Juventus Aspetta solo il trebice fischio dell'arbitro Moriel Di Natale Occhio può andare Molucci Cerca la profondità Occasione Errori grave Preferisce non rischiare Spazza E finisce così Dunque Stretta di mano tra i due allenatori E tutti sotto la doccia Un'ottima inizione di fiducia Per continuare al meglio la stagione Hanno vinto la prima partita Ed è sempre incoraggiante Per il resto della competizione E finisce così Grazie